Avere appena 11 anni e offrire sesso a pagamento sui social network, una vicenda agghiacciante è caduta in un paese dello Scledense, protagonista una ragazzina che frequenta la prima media nell'Alto Vicentino. La bambina avrebbe creato un gruppo su WhatsApp intrattenendo una fitta rete di messaggi. Grazie alla chat dava orari degli appuntamenti e prezzi di prestazione inequivocabili proposte. La voce si è sparsa in un batter d'occhi. A rivolgersi ai dirigenti scolastici sono stati alcuni coetanei sconvolti da quanto stava accadendo. Subito allerta la scuola, i servizi sociali del comune e la polizia locale hanno avviato una rete di audizioni e indagini per capire fino a che punto si sia spinta questa ragazzina e se siano stati coinvolti i maggiorenni. La domanda spontanea e i genitori? Così come ci si chiede quanto sia giusto permettere a una bambina da appena 11 anni di usare i social network come un adulto senza freni arrivando a provocare un vero allarme sociale perché il limite a questa età è difficile da porre se non si è accanto una figura di riferimento che dovrebbe essere in primis quella di mamma o papà. Non si vuole demonizzare il web ma l'uso sconsiderato ed assolutamente inappropriato che sempre più ragazzini fanno senza controllo della famiglia.